In qualche modo un missile di Victor Donoso Apparato Erbores, poi la ribattuta Radocic Poi per Klesevic, il tiro è una forza Non lo facciamo a vincere la ritesa, non difesa Lilla pallone per Arlamskis Radovcic è la conclusione tra le gambe La palla dentro per Pasquale Maglione La prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia È il Conversano che batte 24-21 da Junior Raffasano Grazie a tutti